Quest'oggi con questi ragazzi si svolgerà una nuova attività sull'isola del Tino, molto importante. Sì, infatti la giornata di oggi è molto importante proprio perché per la prima volta viene svolta un'attività di ricerca partecipata, cioè che prevede il coinvolgimento di studenti e di volontari nelle fasi della raccolta scientifica dei dati biologici. Quindi andremo a fare un monitoraggio costiero biologico e contestualmente all'attività andremo a raccogliere anche dei dati relativi al mare in litter spiaggiato. E con l'occasione cercheremo di pulire anche la spiaggia dalla plastica. Come si sono preparati questi ragazzi a questa attività e come l'affrontano? Con quale spirito? Sicuramente con uno spirito molto consapevole di ciò che stiamo facendo, consapevole del creare questa checklist che è molto importante per noi perché andremo a catalogare e a campionare le specie che sono presenti in maggior numero. Che cosa rappresenta come realtà questa associazione? Che cosa vi aspettate da questa giornata? Blue Life è un'associazione nata nel 2019 alla Spezia che si occupa di tutela ambientale. Quindi facciamo eventi di pulizia del territorio, dei sentieri, nelle spiagge e soprattutto sensibilizzazione online quindi sfruttando le piattaforme dei social network e anche il sito web. Per la giornata di oggi speriamo che sia intanto positiva per tutti i partecipanti, per tutti i volontari che sia un'occasione anche per scoprire il territorio, anche perché comunque il Tino rimane un'isola non del tutto accessibile non facilmente raggiungibile, quindi un'occasione per scoprire un posto nuovo e eventualmente valutare anche dal punto di vista dell'inquinamento se ci sono dei problemi o meno e se fosse necessario un domani intervenire. Giornata organizzata dagli amici dell'isola del Tino è tutta dedicata ai giovani. Che cosa farete sull'isola di luce? Intanto si riparte, si riparte e per questo ringraziamo l'accordo e il permesso che ci ha concesso Marina Nord. E quest'oggi sarà una giornata veramente di festa insieme agli amici storici della CAI, insieme alla protezione civile in mare Life on the Sea e grazie anche ai fantastici ragazzi che appunto lavoreranno sull'isola di percorsi nel blu e di Blue Life. Certo, come prospettive che cosa avete in programma? Beh, la prospettiva è sempre diciamo la nostra, quella di valorizzare la bellezza, la cultura, la storia dell'isola proponendo dei percorsi appunto al territorio, alle associazioni, anche per agosto speriamo in attesa di San Venerio di poter avere delle altre occasioni di visita insieme appunto alle associazioni che ne faranno richiesta. L'isola di luce è un'aula a cielo aperto, un'isola laboratorio dove veramente i giovani possono imparare tante cose. Certo, questo sicuramente è la nostra principale occasione di gioia e oggi ne vedremo delle belle.